La riduzione del 98% della riserva del Borsacchio ad opera del Consiglio regionale continua a tenere banco in Abruzzo. Dopo le proteste di cittadini ed associazioni ambientaliste, si registra l'intervento dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale. Il comune intento è quello di riportare i confini dell'area protetta del Borsacchio agli storici 1.100 ettari. I consiglieri di minoranza hanno definito un blitz, quello attuato dalla maggioranza Marsilio alle 3 di notte con cui è stato introdotto un ementamento alla legge di stabilità che ha ridotto i confini della riserva a soli 24 ettari. Nel corso di una conferenza stampa, le minoranze hanno presentato due proposte di cui il Consigliere regionale del Partito Democratico Dino Pepe è primo firmatario. Chiediamo la modifica della legge di stabilità su questo punto specifico, quando è stata approvata dal centrodestra la cancellazione sostanzialmente del Borsacchio. Noi oggi in prima e quinta commissione presentiamo un emendamento specifico per tornare alla situazione precedente e poi abbiamo già presentato un progetto di legge specifico affinché in commissione e poi in aula si possa tornare indietro. Ci sono i tempi.